Dottor Murmux, vedo ancora i dinosauri del trailer. Sono enormi. Aiuto. Lo so che non esistono, ma confermamelo. Fabio non ti è passata la voglia di fare le hitter di questo gioco? Ho brutte notizie per te, i dinosauri enormi su No Man's Sky ora esistono. Li hai pure catalogati con lo scanner. Con quelli farlocchi che Murray aveva creato per le tre, questa cosa non potevi farla. Murmux, non lasciarmi da solo con questi bestioni. Ho paura. Salve a tutti. Un po' di settimane fa, come quasi sicuramente saprete, è uscito il Foundation Update per No Man's Sky. Questo aggiornamento ha introdotto molte novità che spaziano dal gameplay fino all'ottimizzazione estetica e delle performance del gioco. Prima di iniziare con la recensione, faccio solo notare come gli hitter del gioco si siano dimostrati in molti casi la solita banda di pecoroni. Il titolo più odiato dell'anno infatti, su cui hanno sparato ogni cagata che avevano in testa, ora in molti casi è diventato per queste persone il gioco che volevano. Ma, il nuovo No Man's Sky è davvero ora un capolavoro privo di difetti? Secondo me, sebbene molte migliorie siano state introdotte, c'è ancora molta strada da fare per inserire nel titolo quello che vogliono i giocatori. Anche se si sta andando nella direzione giusta. In ogni caso i dinosauri di questi fotogrammi sono stati ottenuti con una mod. Quindi Fabio, rilassati. Truffatore Mi hai preso per il culo come Sin Murray. Caro Fabio, questi dinosauri sono stati ottenuti semplicemente ingrandendo quelli già esistenti nel gioco. Siete voi fissati che non li avete trovati in formato mignone esplorando i pianeti. Le mod di questo aggiornamento le vedremo dopo, ora soffermiamoci sulla novità più importante introdotta. La possibilità di costruire basi. Per trovare una base abitabile, in quanto non è possibile costruire ovunque, se non usando una mod, è sufficiente premere Z per entrare in modalità creativa e da qui piazzare uno scanner di segnale, che troverà la base per voi. Per piazzare un oggetto dopo averlo selezionato in questa modalità, basta premere F. Premendo CTRL e poi F, è possibile invece rimuovere gli oggetti piazzati. Per sfogliare l'inventario di una categoria di oggetti basta premere Q&A. Se invece si vuole cambiare categoria di oggetti, va usata la rotellina del mouse. Eccoci arrivati alla base. La prima cosa da fare per poterci abitare è reclamarla accedendo all'affosito terminale. Nella stessa stanza troverete anche il portale di teletrasporto, che vi permetterà di tornare qui durante le vostre esplorazioni. Il lato forse più debole di questo aggiornamento è che al momento non potete reclamare più di una base in tutto l'universo. Quando infatti reclamerete una seconda base, la precedente verrà distrutta e tutti i materiali usati per costruirla ve li ritroverete nel forziere della nuova base. Spero vivamente che questa cosa venga cambiata col prossimo aggiornamento, ho trovato un sacco di pianeti figli dove vorrei farmi una villa. A partire da questo nucleo centrale, la base può essere espansa costruendo corridoi, stanze e mobili a varia. Ovviamente tutte queste cose costano risorse, ma io in questa partita non ne sto usando perché sono in modalità creativa. Un'altra importante novità di questo aggiornamento è infatti la creazione di altre due modalità di gioco, oltre a quella standard. La creativa in cui si hanno risorse, soldi, salute e protezione della tutta infinite, è la modalità sopravvivenza. Quest'ultima è quella che ha fatto brillare gli occhi a molti haters, e la vedremo dopo. Come avete visto, la vostra base può anche venire popolata da NPC. Gli NPC servono a gestire i quattro tipi di terminale che potete piazzare nel vostro insediamento. Esistono il terminale di costruzione, gestito da un costruttore Jack, il terminale scientifico, gestito da uno scienziato Curvax, il terminale delle armi, gestito da un armaiolo Wicken, ed il terminale agricolo gestito da un contadino Jack. Questi NPC possono essere reclutati nelle stazioni spaziali, ed una volta uniti al vostro team, avranno bisogno di una loro stanza dedicata dentro la vostra base. Gli NPC vi forniranno queste aggiuntive che vi permetteranno di craftare i vari componenti della base, oltre che molti oggetti utili nelle vostre esplorazioni. Costruire le basi non è difficile. Una volta dentro il nucleo centrale è sufficiente entrare in modalità creativa premendo Z e piazzare o togliere gli oggetti come abbiamo fatto prima per lo scanner di segnale. Unica nota la merita la costruzione delle scale per andare da un piano all'altro. Queste possono essere piazzate solo dentro stanze cubiche come questa. Il tetto di queste stanze deve essere sotto un'altra stanza cubica, il cui pavimento va costruito come mostrato mettendo dei pavimenti per stanza cubica da usare come soffitto. Le scale vanno piazzate sotto questi pavimenti adiacenti a cubi che non abbiano oggetti sui muri, come porte o finestre. Ruotare la scala col tasto R è indispensabile spesso per piazzarla correttamente. Dentro le basi è anche possibile coltivare alcune piante che forniscono risorse rare. Queste nuove risorse aggiunte al gioco, oltre a valere molto, sono indispensabili in questa versione per craftare molti oggetti, tra cui un raggio minerario in grado di estrarre elementi rari come il titanio. Alcune risorse poi sono state modificate. Ad esempio ora l'Emeril si trova in giacimenti sotterranei, i cadaveri degli animali lasciano cadere la mordite, mentre le sentinelle abbattute non lasciano titanio, ma una loro risorsa chiamata pugneo. Le basi mi sono sembrate un'ottima aggiunta al gioco. Sicuramente questo aspetto del titolo, sviluppato in soli tre mesi, non è quello che valuterei per un potenziale acquisto, visto che rispetto ad altri sandbox No Man's Sky è sicuramente più povero. Ma l'idea di farsi una villa nel pianeta dei propri sogni era una cosa che volevo fare fin dall'acquisto del gioco. La vera pecca ancora però presente ed invalidante questa caratteristica è l'impossibilità di avere più di una base. Inoltre avrei voluto poter coltivare e allevare le specie trovate nelle mie esplorazioni, e non poche semplici piante non generate proceduralmente. Spero che questi aspetti vengano risolti nei prossimi aggiornamenti. Un'altra cosa che mi piacerebbe vedere è l'utilizzo da parte del motore di gioco degli edifici creati dagli utenti al posto di quelli standard che adesso si trovano in giro tra i pianeti. Una mod non compatibile con questo update sbloccava gli edifici generati proceduralmente inseriti nel gioco, ma mai attivati da Hello Games. Sarebbe bello far spavnare al posto di questi gli edifici creati dagli utenti in altre partite. Altre tecnologie, oltre allo scanner di segnale che abbiamo già visto all'inizio, sono costruibili fuori dalle basi. Fra queste ricordiamo i punti di salvataggio, utili soprattutto nella modalità sopravvivenza che vedremo dopo, e di radiofari. I radiofari permettono di marcare con un segnalatore un punto di interesse su un pianeta. La pecca di questo sistema? I radiofari non sono visibili fuori dal sistema stellare in cui sono piazzati. Questo purtroppo li rende quasi inutili. Anche perché la mappa galattica del gioco è un vero disastro. Anche se per migliorarla basterebbe renderci visibili i radiofari e magari rendere più evidenti i pianeti visitati da un giocatore, unendoli con delle linee. Altro oggetto interessante è la stazione di comunicazione, che permette di mandare messaggi scritti agli altri giocatori. Dentro la base è poi possibile costruire shop, basi di atterraggio per le navette e anche casse dove immagazzinare oggetti. L'unità mineraria autonoma, se piazzata su un giacimento, vi permetterà di estrarre risorse automaticamente, anche in vostra assenza. Piazzatela sempre in un luogo raggiungibile, e, quando diventa verde e smette di lavorare, prelevate le risorse col tasto E. Per qualche motivo, l'unità a me non preleva risorse in modalità creativa ed ha questo errore. Un'altra cosa che ho apprezzato di questo aggiornamento è l'ottimizzazione delle prestazioni. Se prima il gioco con Frax lagava ed aveva un lentissimo caricamento di texture ed oggetti nei pianeti, ora questo accade molto meno, come potete vedere anche utilizzando la mod, che permette di volare bassi con la navicella. Hello Games credo non abbia ancora abilitato il volo basso solo per evitare proteste da caricamenti lenti nel gioco, ma come vedete funge tutto che è una meraviglia. Un'altra novità di questa versione è la possibilità di approdare sulle navi mercantili per acquistarle. Per procedere con l'acquisto è sufficiente raggiungere il ponte di comando e parlare col comandante. Questo, se avete abbastanza soldi, vi venderà alla nave. La principale funzione dei mercantili è quella di deposito a larga capienza di oggetti, da vendere poi nel commercio galattico. Infatti ogni slot di un mercantile può contenere fino a mille oggetti, cioè il doppio di uno slot della vostra navetta e quattro volte quello della vostra tuta. La pecca di queste navi è ovviamente il prezzo. La meno capiente infatti costa fra i 7 e gli 8 milioni. I mercantili possono avere fino a 48 slot e costare decine se non centinaia di milioni. Queste navi potrete richiamarle su ogni pianeta che esplorerete per usarle come magazzino, ma non potrete né pilotarle, né usarle in combattimento. Il combattimento spaziale in questo gioco è infatti ancora abbozzato, ma d'altronde non è mai stato a mio parere il suo reale obiettivo. I dev comunque si stanno muovendo per migliorare anche questo aspetto. Andando dietro al ponte di comando, i mercantili poi possono essere personalizzati negli interni usando gli stessi componenti usati per le basi. Un modo furbo di aumentarne la capienza e poi piazzarci anche delle casse in queste stanze. Anche avere dei terminali per il commercio galattico e dei campi nel mercantile renderà queste navi delle miniere d'oro per il giocatore completamente autosufficienti. Per richiamare il mercantile su un pianeta basta premere X e selezionarlo. Per spedirci gli oggetti dentro, andate nel vostro inventario, spostateli col tasto X, andate nell'inventario del mercantile, ripremete X e riselezionate l'oggetto. Per recuperare un oggetto dal mercantile dovrete invece parlare col comandante. Se installerete delle moda al gioco, da questo appedate una schermata all'inizio vi avvertirà che queste non sono ufficialmente supportate. Dopo aver premuto un tasto qualsiasi vi troverete il nuovo menu dove scegliere fra le tre modalità di gioco già citate. Per ogni modalità avrete un salvataggio distinto. L'ideale ovviamente sarebbe avere la possibilità di creare quanti salvataggi si voglia. Speriamo nei prossimi aggiornamenti. Appena inizierete una partita, il gioco inizierà a caricare, ma adesso quando caricherà le shaders, che sono la cosa che a volte fa laggare la schermata, il gioco vi avvertirà. Questa cosa credo che Hello Games l'abbia inserita dopo che alcuni stupidi si lamentavano di una vietà e cioè che generare un universo da zero faccia laggare il PC. Comunque tranquilli. Io l'ad pesante l'ho avuto solo al primo avvio del gioco e dell'appedate. Di norma il gioco mi si avvia in qualche decina di secondi. Ora finalmente parliamo della modalità sopravvivenza. Si lo so, ho messo modalità creativa quando ho selezionato dal menu, ma è solo perché non ho ripreso stupidamente l'avvio in sopravvivenza. Comunque, almeno nel mio hardware, il tempo di caricamento è simile a quello che avete visto. Questa modalità è davvero difficile come la descrive Mezzomondo. Secondo me no. È tosta solo per le teste di cavolo che non hanno mai giocato ad un survival serio, o al massimo hanno provato Minecraft. Sicuramente non è una modalità impossibile, neanche non utilizzando le mod. Richiede solo un po' più di attenzione nel muoversi e nel cercare risorse e ripari. Anche perché il titanio come già detto non si estrae più col raggio minerario iniziale o ammazzando le sentinelle, e per caricare il supporto della tuta non si può più usare il comune carbonio, ma solo i serbatoi energetici che si trovano nelle casse ed il tamium 9 dei fiori rossi. Anche il plutonio per ricaricare i propulsori di lancio della navicella, una volta che l'avrete raggiunta, sarà un po' una magagna a volte. Anche perché per decollare userete tutto il serbatoio. Altra novità dello spazio è che ora sia gli scudi sia il propulsore si ricaricano col ferro, e non col tamium 9. Il ferro sarà anche l'elemento più comune negli asteroidi, che ora sono in banchi e contengono elementi e forme più vari. Inoltre, se morirete nello spazio, in survival perderete tutto l'inventario della nave. In definitiva prezzo anche questa modalità, che dà un sapore diverso all'esplorazione planetaria. Infatti caricare le scoperte sull'Atlante è un'importante fonte di reddito in survival. No Man's Sky, grazie alla sua generazione procedurale, dà quindi un tocco unico a questo stile di gioco. Per finire quindi, No Man's Sky è davvero un altro gioco dopo l'appedate? Secondo me, assolutamente no. Sebbene le nuove modalità riprendano quelle di Minecraft, il survival di No Man's Sky non è il survival complesso che potrete trovare su un 7 Days to Die. È la sua modalità creativa, non è paragonabile per complessità a quella di un Minecraft. Se poi lo paragoniamo ad un Planet Explorer, questo gioco sotto questo aspetto esce nettamente perdente. Le nuove modalità infatti, più che come modalità nuove, possono essere viste come un arricchimento del gameplay fatto di esplorazione ispirato da giochi come Noctis o Space Engine. La modalità creativa, infatti, è perfetta per le persone che vogliono esplorare senza rotture. La normale è quella che tutti hanno già provato al rilascio, mentre la modalità sopravvivenza è sempre esplorazione, ma resa cauta e con un po' di pepe al culo. È davvero una buona idea ad entrarsi in mezzo alle bestie o nelle intemperie per catalogare tutti gli animali di questo o di quel pianeta? Questa è la domanda che il giocatore dovrebbe porsi in modalità sopravvivenza. L'introduzione delle basi poi rende l'esplorazione ancora più interessante, permettendo al giocatore di colonizzare gli angoli più belli di questo universo simulato. Peccato solo che al momento non si possa costruire più di una base e che i radiofari non permettano di evidenziare le scoperte nella mappa galattica. Queste due cose sono le prime che io correggerei. Alla fin fine, No Mace Sky è un gioco di esplorazione che la massa non ha capito e che credo il pubblico di oggi, per lo più abituato solo a sparatorie, sfide pvp fasulle e bimbomichiate competitive, non capirà mai nella tranquillità che riesce a trasmettere tramite i suoi paesaggi che sembrano estratti da sogni. La colpa vera di Sony, oltre ad aver impedito ad Hello Games di completare adeguatamente lo sviluppo del gioco tagliandogli le gambe sui tempi di sviluppo, è stata cercare di vendere un titolo per pochi come un titolo per la massa. Infatti No Mace Sky non è mai stato un brutto gioco. Semplicemente aveva un target molto più ristretto di quello che si voleva servire. E spero vivamente che i futuri update non lo facciano diventare un titolo uguale a tutti gli altri. Magari con il solito multiplayer pullulante di deficienti. L'installazione delle mod in questo aggiornamento è stata molto semplificata. È sufficiente infatti copiare i file delle mod dentro la cartella mods, da creare dentro la cartella pcbank del gioco. Per abilitarle poi è sufficiente rinominare il file di testo che trovate nello stesso percorso da Disablemods ad Anablemods. Ricordatevi di mettere il nome del file e della cartella in maiuscolo. Purtroppo dopo lo smardaggio generale del gioco ed il silenzio di Murray durato mesi, lo sviluppo delle mod è quasi cessato e ormai sono poche quelle compatibili col nuovo aggiornamento. Quelle usate da me, che trovate in descrizione, permettono di Volare bassi con lana di cella, correre più veloci, avere più colori nei mondi, avere dinosauri alti nei pianeti fungosi ed avere un caricamento più rapido della tuta quando ci si rifugia nelle caverne. Senza questa mod, in modalità survival, ogni volta che si entra in un riparo, la tuta si ricarica in modo esasperatamente ed inutilmente lento. Spero che correggano presto questa cosa nel rilascio ufficiale. Per finire, vedremo ora come utilizzare un software esterno al gioco molto interessante. Con questo gingillo, potrete esportare in software di modellazione 3D come Blender, gli oggetti del gioco generati proceduralmente. Per prima cosa dovrete scompattare il file.pack del gioco. Per fare questa procedura facilmente, potete copiare nella cartella pcbanks il software apposito che trovate in descrizione, ed avviare il file che vi ho indicato. Fatto questo, mettete da parte in una cartella apposita i file estratti. Scompattare il file del gioco è utile anche per creare nuove mod. Il sito ufficiale dei modder sta creando dei tutorial a tal fine. Scompattati i file, aprite il programma che trovate in descrizione. Andate su, opzioni, settings ed infine definite nello spazio che vi ho indicato la cartella dove sono i file scompattati. Fatto questo andate su open e, dal menu che vi compare, selezionate un file.scene di quelli presenti negli archivi scompattati del gioco. Nella cartella che vi ho indicato trovate ad esempio i file relativi agli animali. Una volta impostato il modello da creare, cliccando sul pulsante PROCGE, il software genererà proceduralmente i modelli 3D di alcuni animali del tipo scelto. Cliccando su un modello col tasto destro del mouse, potrete convertirlo in un file.obj, leggibile da tutti i software di modellazione 3D come Blender. Prima di darvi il solito arrivederci alla prossima, vi dico che sto cercando di prepararvi un regalo di Natale molto speciale.